In occasione della ventitresima giornata mondiale di consapevolezza sullo stress si terrà a Montegliasi, l'unica tappa di Italy Stress Awareness Day, ad annunciare ai nostri microfoni l'importante evento il sindaco di Montegliasi Cosimo Ciura. Una manifestazione proposta dal dottor Michele Vandrillo che è ambasciatore con la collaborazione dell'associazione La Forza della Vita e quindi un bel evento per il giorno 5 novembre alle 18, ci saranno altri legislatori che si alterneranno quindi aspettiamo questo evento per questo tema abbastanza importante ai giorni d'oggi. E' rivolto ad una fascia in particolare? Ma credo che lo stress ci sia a tutte le età, ognuno nelle sue rimostranze, credo che la medietà sia quella più colpita.